Tanta uagna per tutti ragazzi, oggi sono qui per farvi vedere la top 5 dei bug nei videogiochi Bug che forse già conoscete, bug che forse non conoscete Ma una cosa è sicura, questi bug sono l'apice del trash Qualcosa di stupendo e magnifico ma raccapricciante allo stesso tempo Quindi lasciate un bel mi piace e ci vediamo subito con la top 5 Alla posizione numero 5 troviamo il bug guardi e ladri su FIFA 15 In cui un giocatore del Manchester con la palla in mano comincia a correre in cerchio inseguito da un giocatore del porto Compromettendo la durata della partita ovviamente Alla posizione numero 4 troviamo i necro bambini di The Sims Sì, potevi mettere incinta la tua sim e ottenere una roba del genere Bambini necromorfi dagli arti scomposti e dagli occhi fuori dalle orbite Qualcosa di terrorizzante Tutto questo ormai è stato patchato Ma sarebbe stato bellissimo vedere uscire dalla culla una roba del genere Sul podio la posizione numero 3 L'uomo foca di Skate 3 E diciamo anche esorcista visto quello che fa con la testa Fantastico Alla posizione numero 2 troviamo Talion di Lombra di Mordor Che uccidendo un Karagor comincia a fare un warride infinito Dalle svariate posizioni Prima a sinistra, poi in alto Poi di nuovo a sinistra, in alto, sinistra, in alto E così all'infinito Come si fa a giocare in queste condizioni dico io Evviva i bug E evviva l'ombra di Mordor Finalmente arrivati in posizione numero 1 Con uno dei bug più belli del mondo Scusate se rido ma è troppo bello rivederlo In cui Adam, il protagonista di The Wolf Among Us Comincia a fare il ballerino di lap dance Che è una cosa stupenda Contorcentosi tutto su di lui E facendo pose stranissime Però non ha prezzo questo bug Davvero fantastico Comunque il video dei bug finisce qui Spero vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciate un like e un commento Se volete un altro video di bug O di robe varie su altri giochi O su qualche gioco in particolare Noi ci vediamo con un prossimo video Tanta uagna per tutti ragazzi Alla prossima Tanta uagna per tutti